Un cordiale saluto dalla redazione, ben ritrovati con l'informazione di oggi, giovedì 6 novembre 2014 da Telemerito, canale 625, digitale Terrestre. Nuove minacce al presidente dell'ente parco nazionale dell'Aspromonte. Il presidente dell'ente parco nazionale dell'Aspromonte, Giuseppe Bombino, è stato vittimo ad una nuova intimidazione. Il dottor Bombino ha trovato poggiata sulla sua auto una lettera in cui vi erano scritte delle pesante minacce. Il fatto è stato denunciato alla polizia di Reggio Calabria che immediatamente ha avviato le indagini. In precedenza Bombino era stato vittima di altre intimidazioni. Infatti qualche mese fa al presidente del parco gli era stata ricapitata una lettera contenente due proiettoli e in seguito gli erano stati fatti trovare sul sedile posteriore dell'auto di servizio. Due cartucce. Reggio Calabria, denunciati nove cacciatori. Nove cacciatori sono stati denunciati dal corpo forestale di Reggio Calabria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia venatoria. A Cardeto è stato sequestrato un ricame elettromagnetico fuori legge e altre due a Condofuri. Controlli e otto denunce a Santofemia, Sinopoli e Meli Cucca. Una persona è accusata di porto abusivo d'arma, sequestrati anche alcuni volati e li uccisi appartenenti a specie di cui è vietata la caccia. Autostrada A3. Ancora una chiusura nel tratto Pizzo-Lamezia-Terme. Continueranno anche nei prossimi giorni i disagi sull'autostrada A3-Salerno-Reggio Calabria nel tratto compreso tra Pizzo e Lamezia-Terme. Dalle 20 alle 6, entrambe le direzioni, il tratto compreso tra gli svincoli di Lamezia-Terme e Pizzo, a renderelo noto, è l'ANAS con un comunicato in cui spiega come il provvedimento sia reso necessario per consentire il valo degli impalchi metallici di due cavalchevie. Grave incidente a Taurianova, giovane in coma trasferito a Reggio. E in gravissime condizioni, il giovane di 24 anni, Alessandro Cercea, protagonista di un terribile incidente a Taurianova, il ragazzo alla guida di una moto si è scontrato frontalmente con un camion nella strada che collega Taurianova a Polistena, recuperato d'urgenza all'ospedale Maria degli Ungheresi di Polistena, successivamente è stato trasportato ai riuniti di Reggio Calabria. visto l'aggravarsi della situazione. Careri, maltempo, crolla il ponte per Natile Vecchio, isolate 400 persone. Nuovamente crollato a causa del maltempo il ponte di collegamento sulla strada tra Natile Vecchio e Natile Nuovo nel comune di Careri, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, nel crollo non sarebbero, per fortuna, coinvolte persone, ma gli abitanti del piccolo centro Aspromontano. Circa 400 sono attualmente isolati. La zona è attualmente colpita da temporali fortissimi, concentrati soprattutto nell'area compresa tra Platì, Careri e Bovalino, che stanno mettendo a dura prova la tenuta idroiologica dell'area. E adesso, sempre nella logra, Platì, Vigili del Fuoco salvano due persone a seguito dell'esondazione del torrente Fiumara. Sono state salvate da una squadra di Vigili del Fuoco due persone rimaste intrappolate all'interno della propria autovettura a seguito dell'esondazione del torrente Fiumara a Platì. Grazie al tempestivo intervento i soggetti sono stati portati al sicuro. Merito Portosalvo, un comunicato dalla Protezione Civile, allerta medio, avviso appunto della Protezione Civile di Merito Portosalvo, che fa sapere che nel corso della nottata e nelle prime ore della mattinata le condizioni climatiche potrebbero avere un netto peggioramento. Per questo, in caso di forti temporali, di piogge persistenti, con conseguenti rischio di esondazione dei corsi d'acqua, di mareggiate, il crearsi di eventuali situazioni di pericolo, la Commissione straordinaria del Comune di Merito Portosalvo invita la cittadinanza a stare lontana da argine di torrente Fiumare, ricoverando i luoghi sicuri, automobili, animali e altri mezzi di proprietà, evitare categoricamente di prendere iniziative che possono creare pericolo per se stessi e per gli altri, raggiungere luoghi sicuri se ci si trova per strada oppure di rimanere a casa, contentare in caso di bisogno il centro operativo comunale a seguente numero. 0-9-6-5-78-37-78 E parliamo adesso di sport, apriamo la pagina sportiva con la regina Cozza voleva dimettersi. Velato un clamoroso retroscena in casa Maranto, come riportato dalla Gazzetta del Sud dopo la brutta prestazione di domenica contro la Versa Normanna, l'attuale tecnico della regina Francesco Cozza avrebbe pensato seriamente alle dimissioni. A frenare l'allenatore pare sia stata la promessa del Presidente Foti di rinforzare la rosa con alcuni innesti nella sezione di mercato invernale. Bene, tutto anche per oggi, io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon conseguimento con le trasmissioni di Telemerito, canale 625 del Digitale Terrestre.